Non è obbligatorio per un autore iscriversi ad un ente di gestione collettiva dei diritti d'autore come appunto per l'Italia la SIAE, perché c'è un principio abbastanza assodato nel diritto d'autore per cui l'autore è libero di gestire i suoi diritti autonomamente, quindi senza necessariamente appoggiarsi ad un ente che fa questo lavoro. Ci sono a volte purtroppo delle situazioni in cui è il mercato di imporre questa scelta, cioè ad esempio l'etichetta escografica che promette all'autore di promuovere le sue opere a condizione che l'autore però si appoggi ad un ente come la SIAE oppure lo scrittore a cui la casa editrice impone lo stesso tipo di obbligo, oppure a volte la scelta dello stesso autore che per ragioni sue di calcolo o di beneficio economico ritiene che gli convenga appoggiarsi ad un ente perché questo gli può garantire una remunerazione maggiore, ma sono valutazioni sempre molto molto delicate che è difficile fare a priori all'inizio della carriera di un artista, di un autore.